trapolato dalla mia pratica quotidiana, ho piacere poi, al di là dell'applicazione pratica che ciascuno di voi possa fare di questa metodologia, parlare lo stesso linguaggio, dico io. Quindi, se io posso aiutare ciascuno di voi nella pratica quotidiana, perché il mio è un corso esperienziale, non è un corso teorico, questo fa la differenza, forse, credo, con tutti gli altri corsi di formazione, altamente specifici, altamente formativi, allo stesso modo, ma piuttosto teorici o piuttosto tecnicistici, dico io, perché si insegnano tante tecniche, si fanno tanti corsi che poi all'atto pratico magari si ha difficoltà a mettere in opera, in azione, in un contesto di una sintesi globale sul paziente. Quello che io faccio, io propongo, nel mondo osteopatico come formazione, è proprio la sperimentazione invece pratica, attraverso il mio metodo, che però parla un linguaggio universale, perché si possono utilizzare gli strumenti come no. Quindi, insomma, questo è un corso pratico, lo faremo online, ma sarà subito di facile applicazione sui vostri pazienti, anche magari provando, anche se non ci siamo ancora visti dal vivo, almeno quando cominceremo a fare i testi d'ingresso e la procedura del mio trattamento. Grazie.